Prima di dare la parola al moderatore Massimo Milone, consentitemi di ricordare un amico del Sabato delle Dei, Fabrizio Forchè. Era qui l'anno scorso a moderare questo incontro sul tema e prematuramente scomparso. A me piace qui ricordare Forchè come uno degli uomini migliori di questa Napoli, come una delle grandi personalità. Era vice direttore del Sole 24 ore, ma aveva una profonda cultura umanistica, era un giornalista con grande attenzione e anche grande abnegazione ed era sempre pronto col suo stile, il suo modo di grande signoralità non solo nei modi ma anche nei concetti che esprimiva. Ho pregato il dottor Pesole del Sole 24 ore, per cui mi sono permesso di commemorare Fabrizio Forchè. La prego. Buongiorno a tutti, grazie per questo invito che ho accolto con grande piacere, per la profonda amicizia che mi legava a Fabrizio, per la condivisione di un lungo percorso professionale che abbiamo fatto insieme nel corso degli ultimi almeno 15-20 anni e per molti aspetti che hanno avvicinato le nostre vite professionali, umane, di amicizia in questi anni. Una di queste è appunto Napoli, Napoli che per me è la mia patria d'origine, essendo i miei genitori erano entrambi napoletani. Fabrizio era un napoletano vero, che aveva della napoletanità tutti i tratti di ligerezza, di ironia, ma anche di profondità. E poi la condivisione di un modo di fare giornalismo, questo vorrei sottolinearlo perché ci ha sempre caratterizzato al Sole 24 Ore e Fabrizio devo dire che interpretava molto bene anche questo modello di giornalismo autorevole, rigoroso, attento ai fatti, molto attento alla verifica delle fonti, ma non per questo un giornalismo pedante, un giornalismo brillante ma rigoroso che è poi la caratteristica fondamentale di un grande giornale come il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore è stato per Fabrizio una casa, una casa vera e propria in cui noi ci siamo ritrovati a lavorare tantissime ore nel corso delle giornate. Il lavoro nei giornali è di fatto full time, soprattutto per chi come Fabrizio aveva responsabilità come vice direttore e quindi era impegnatissimo fino alla tarda sera, ma mai mancava quel tocco di leggerezza, anche la battuta che si poteva fare in certi momenti della giornata non so se c'è il fratello Aldo qui, eccolo, approfitto per salutarlo se si Aldo, eccolo lì, e quindi insomma è un ricordo molto presente, Fabrizio è ancora con noi in redazione tutti i giorni perché è quello che lui ci ha insegnato dal punto di vista non solo di come fare un giornale, di come scrivere gli articoli, soprattutto rispetto ai più giovani, non certo io che sto in un'altra fase come fascia di età, ma ci scambiamo spessissimo impressioni, è tutto sempre con un grandissimo rispetto. Ecco, questo è l'altro punto fondamentale che mi preme sottolineare e che ci ha legato molto, e poi tante altre cose, la passione per la musica ad esempio che abbiamo condiviso, lui amava tantissimo Bob Dylan, quindi ogni tanto entravamo nella sua stanza e cominciamo a parlare mentre magari i colleghi si affrettavano a avvicinarsi alla sua scrivania per parlare dell'articolo, lui diceva sì un attimo ma adesso non sto parlando di Bob Dylan, due minuti, due minuti di stacco, e quindi anche questo è molto importante. Poi vorrei ricordare, infine, anche perché questo ci ha legato molto, soprattutto negli ultimi mesi, prima della sua scomparsa, l'impegno comune, la passione per l'insegnamento. Fabrizio si è praticamente inventato un master al Sole 24 Ore di Management Politico, una novità assoluta nel panorama italiano, e cioè ci siamo chiesti, parlando qualche anno fa, rispetto alla crisi o alla prevalente o imperante sensazione che in giro c'è di antipolitica, ci siamo chiesti ma perché non proviamo a fare una scuola della buona politica, e lo facciamo a livello massimo, cioè a livello di un master. E Fabrizio, devo dire, si è inventato questo master che ora sta andando molto bene, che quest'anno ha a RECA anche una borsa di studio che abbiamo voluto intitolare a lui. La passione dell'insegnamento, ricordo proprio una delle ultimissime cose che abbiamo fatto insieme a Fabrizio, che lui mi chiamò a tenere insieme una lezione alla LUIS di giornalismo economico, assolutamente improvvisata, perché lui mi chiamò il giorno prima. Andammo lì e provavamo a organizzare una cosa insieme spiegando ai ragazzi come si leggono alcuni documenti di finanza pubblica e come si può provare poi a tradurli in articoli giornalistici. Abbiamo fatto questa lezione a due voci con i ragazzi che partecipavano con proiezioni, slide, eccetera. Io alla fine ero molto soddisfatto e anche lui ha detto guarda, è andata benissimo, la dobbiamo rifare. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta rifarla. Vabbè, insomma, abbiamo reagito tutti con grande emozione e ancora oggi non riusciamo proprio nemmeno a immaginarci che Fabrizio non sia tra noi ma Fabrizio è ancora tra noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.